Buongiorno Archiderio di Merusolo, orchidea una medicina per l'anima, vi ricordo sempre il nuovo libro Archiderio storie e personaggi, ormai sapete tutto memoria, costa 20 euro, sono 369 pagine dedicate alle orchidee, ha tre grandi pregi, questo a poco è semplicissimo, l'ho scritto io. Una cosa, adesso sono arrivato a 5.000 iscritti, 5.000 amici come Giancarlo Pozzi e non posso più prendere altri amici, c'è diversi che mi chiedono amicizia, non posso più, perché Facebook non puoi arrivare a oltre 5.000 amici e finché non si cazzerà qualcuno non possesse tranne altre, perché vive fuori, si è arrivato a 5.000 amici e non si può più andare avanti oltre. Va bene, oggi voglio parlare delle, ne abbiamo già parlato altre volte ma la volevo ripare, il trapianto delle orchidee simboliali, cioè quelle che hanno, che hanno uno sviluppo, c'è la differenza delle perenopsie, che hanno uno sviluppo verticale, fare nuove foglie sopra e perdere le vecchie sotto, ma è quella e basta. Ci sono certi idee, la maggior parte, che sono simboliali, cioè invece che hanno uno sviluppo verticale come le falenopsie, le mandaglia greco, hanno uno sviluppo orizzontale, continuamente fanno nuove vegetazioni e le vecchie vecchie, vedete, perdo le foglie, poi pian piano i bulbi vecchi seccano e pian piano se ne vanno, è la vita. Tutto un inizio, tutto una fine, anche loro i bulbi vecchi se ne vanno, mentre nelle perenopsie le foglie vecchie sotto si staccano e vanno avanti per le foglie sopra. Allora, quando bisogna attraversare queste qui, allora tutto quello che c'è di vecchio va eliminato, ad esempio i tutori, i tutori, vedete sotto, se la pianta ha qualcosa, quando sono vecchie così, quando sono vecchie così, qualche radice marcia ce l'hanno, qui c'è contaminato da marciume, da altre cose, poi vanno buttate via, etichette, tutto quanto va eliminato perché non è più, cioè non è corretto ottenerli. I rami vecchi li eliminate anche senza disinfettare la forbice con la caldencina, perché quando sono secchi così non c'è problema, sono morti, per cui non trasmette niente. Dopodiché bisogna togliere dal vaso, togliere dal vaso, fate un po' di pressione così, poi picchiate sul vaso e salta fuori, vedete queste radici molto belle, però dentro e mezzo c'erano delle radici marci. Allora queste qui per, ecco, si potrebbe mettere tutto assieme in un vaso grande, in un vaso molto più grande, dovete fare conto che la corteccia ogni tre anni va sostituita, praticamente ogni tre anni si decompone e va sostituita. Per certe piante come il papiopedium, come le zigopetaline che non devo mai asciugare, che vanno bagnate di più, si decompone prima, per cui zigopetaline, papiopedium, famipedium, così si cambieranno ogni anno e due anni. Allora, se lo mettiamo in un vaso unico, dobbiamo mettere un vaso che possa stare nei prossimi tre anni, cioè dobbiamo fare conto che tre anni per tre nuove vegetazioni ci vorrà un vaso grande così, perché dopo, questa è la parte vecchia, di qui non va, la pianta va solo di qua, trema la parte vecchia, adesso questa che mi racconta, il bordo del vaso, in modo che più spazio davanti, però se dobbiamo mettere in un vaso solo ci vorrà un vaso più grande di questo, però si può dividere e quando uno è un appassionato, avere due piante è sempre una buona idea, perché come tutte le cose vive, anche le orchidee possono morire e se uno ne ha due, ha una pianta di scorta. Allora, si può dividere, o così, facendo molta forza, dividere per fare due piante, o si può tagliare tutte le radici, ecco, sono portato il coltello, a questa altezza qua, perché comunque sarebbero indistricabili, nessuno riescerà mai a districarle quelle radici qua, per cui andranno rotte comunque. Allora, se noi le tagliamo così, occorrerà molta meno forza, cioè tagliando tutte queste radici sotto, disinfettando la forbice con la cannesina, oppure dividendole così, ma bisogna fare più forza. Poi tante radici si strappano, ma è normale. A questo punto, questi bulbi vecchi qua, li posso eliminare, vedete? Questa è la gabbietta di spagna che c'era quando arrivano le piante. E a questo punto qua, vedete? Le radici che restano sono tutte buone. Controlliamo bene se c'è qualcosa di... Comunque sia, quando avete una pianta che si può dividere, fare due piante è sempre una buona idea. E lo mettiamo in un vaso del 14, che ci può stare tra i prossimi tre anni. Dato che questa è la corda, la pianta va avanti di qua, la posizioneremo in questo modo, in modo che per spazio dà davanti. E qui ci sta le prossime tre vegetazioni, cioè per i prossimi tre anni, in modo che tra tre anni sarà pieno il vaso e anche la corteccia sarà l'ora di cambiarla. Quindi mettiamo dentro la corteccia, pressando verso i bordi. La corteccia è meglio che sia umida, adesso qui non è solo per far vedere. E' meglio la metterla a bagno prima di usarla. E così l'altra. Togliamo i bulbi vecchi, vedete? Questi qui che... Ecco, che c'è una certa forza perché... Le radici troppo lunghe le tagliamo un po' così. Tanto le ripara immediatamente, c'è le nuove vegetazioni che radicheranno velocemente. Lasciamo sempre davanti, vedete che ci stanno le prossime tre vegetazioni, così fra tre anni. E adesso ci ci saremmo ancora. Adesso siamo al 2020, nel 2023 magari ritroviamo queste piante qua, e facciamo vedere come sono che saranno piene di radici. Ok, pressate sempre sui bordi, mai verso la pianta, ma sui bordi. Poi date un paio di colpetti, così era in base fatto. Inizialmente, cioè la corteccia dovrebbe essere bagnata e non bagnate più per una decina di giorni. Al limite, adesso che fa molto caldo d'estate, almeno dovrebbe far molto caldo, da noi non è che sia proprio caldissimo. Solitamente il mese di luglio è altro che più caldo di così, e anche di notte fa anche abbastanza freschetto. Quando fa molto caldo, al limite si può spruzzare le foglie, per abitigare un po'. Però se non bagnate, se lasciate, radica più velocemente, radica prima, e non dovete colcimare. E si comincia a colcimare quando la pianta comincia a far presa nel vaso. Perché se colcimate, la pianta dice, oh che bello. Se invece non colcimate, la pianta va a cercare da mangiare e fa le radici per andare a cercare da mangiare. Così radicherà molto più velocemente. Quando comincia a essere radicata, allora potete cominciare a colcimare così. Va bene? Allora, ah, sì, l'ho detto che abbiamo 5.000 amici. Niente, non posso più prendere amici. Adesso non so, vediamo cosa posso fare. Perché ho chiesto a un amico, mi ha detto che i casi sono due. O prendo un altro, faccio un altro, un altro coso, non invece che cercarlo a porci, posso fare uno, so, cercarlo a porci uno così. Ma diventa casino, perché c'è già problemi, sta dietro tutto, in merca di prendere anche un altro. O devo cancellare, perché ero già arrivato circa 15 giorni fa, mi ha detto cancello a tutti quelli che non c'è la foto, che generalmente sono oggi gente che ha abbandonato Facebook. Allora, ne ho cancellati due, trecento, ma adesso siamo arrivati ancora a 5.000. Va bene, dai, a domani.